Oh 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 oh, oh 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 Stanotte vogliamo vendere la baola sul cupo eh Oh 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 oh, perchè la baola troppo così selvosa E quindi stanotte... Ahnt è l'ora di Flexo-Leo, animano per te... questa sera non importa che faccia già l'importante che ci sei volevamo anche rinnovare gli auguri di buon compleanno ad Andrea ciao Andrea ciao Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 e respirare come i tuoi scelmi da facciare per questo balletto molto caliente vai Andrea che stano Andrea buon compleanno allora quanti anni fa 30 complimenti perché hai deciso di perseggiare perché c'è un movimento abbastanza fashion come ti sei portato stasera una trentina di ragazzi tutti i portelli tutti dove sei il Pignano allora salutiamo tutti gli amici del studio 100 by Night e tutti gli amici del Pignano vai Andrea ok saluto tutti quelli che mi conosco un abbraccio come ti sei portato se stai non l'abbiamo 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 Quanta bellezza Quanta gloria Quanta bellezza Quanta bellezza Rezende Impare la bellezza Quanta bellezza Il contatto Il contatto Quanta bellezza La donna Viande Guanta Anza Quanta belle villara e se per caso vi siete dimenticati di noi noi ci troviamo al living, anzi c'eravamo al living perché adesso la serata signora, le migliora pomodora la serata del living è conclusa, ci siamo divertiti tantissimo e voi mi siete divertiti, pure tu, grazie beh allora noi ci siamo divertiti tanto e speriamo che ci verrete anche voi nei prossimi appuntamenti del living, ve li abbiamo raccontati tutti tutte le salse, in tutte le merende e allora vi aspettiamo a maglie, al living se ne vogliamo parlare, ne possiamo parlare scrivete su facebook ah, dove? no, scrivete su facebook io sono Alfonso Zambrano, come sono io? eh, bravi sì, mamma mia lui è Tommaso D'Angelo, è chi mi raffinamenta beh, buonanotte e bainai buonanotte e bainai ciao